Cristian, buon aiuto, partiamo dal gol, dalla magia che hai regalato al pubblico dell'Ozzini. È stata una bella emozione e sono contento per il gol, ma soprattutto per la vittoria e per la squadra. A proposito di prestazioni di squadra, una cremonese che ha cambiato ritmo nella ripresa, cosa vi siete detti tra il primo e il secondo tempo? Dovamo continuare su questi ritmi e dovamo spingere subito per i primi 20 minuti. L'abbiamo fatto, ci siamo riusciti, abbiamo subito svoltato la partita e abbiamo fatto un gran secondo tempo, secondo me. Una posizione diversa rispetto al solito, quella nella quale hai giocato stasera in appoggio a Ciofani, come ti sei trovato? Ci sono trovato abbastanza bene, Dani fa la guerra per tutti e sono riuscito a raccimolare un po' di palloni puliti per giocare con la squadra. Mi trovo molto bene. C'è qualche dedica particolare per questa prima vittoria stagionale? Sicuramente a mia mamma che è domani con più gli anni, è la mia famiglia, è un ragazzo della curva che è Giorgio che non se la sta passando molto bene, quindi dedichiamo a loro la vittoria e il gol.